Grazie a tutti. Monica, brillati! Ciao, benvenuta! Com'è? Ciao, ciao! Benvenuta Monica Vitti! Basta? La signora Coriandoli, ovvero Maurizio Ferrini. Mi fa un male? Permesso? Ma signora Coriandoli come sta? Permesso, grazie, grazie. Come sono contenta di vederla. Ma si ha fatto di vederla. No, lasciala stare, lasciala stare, non me l'addormentare. Loredana Romito, che bella ragazza, buonasera. Benvenuta, come va? Io sono già stanchissima. Sono già stanchissima. Ancora? Non mi stacchi ancora? Vogliamo stare insieme tutto il pomeriggio? Valli con me, con Stefano? Non so, voglio dire... Vittorio Gasman per la squadra maschile! Ciao, ciao Vittorio. Non sei fortissimo! Bene? Benissimo. Ho cercato di mordere il lamello. Che giornata con la testa e le mani. Ma adesso ti slego, guarda. No, no, tutto bene. Volevo mandare via questo signore, tanto simpatico, eh. La verità, molto simpatico. Però slegami da questa mano. Guardami. Che arriva Buzanca e mi becca l'altra mano. E io cosa faccio? Mi dà un cazzotto? Mi dà un cazzotto. Casomai lo blocchiamo a Buzanca. Così può? No, no. Dopo mi sleghi? Sì. Chiamo Lando, un po' mi sleghi? Sì, sì. Lando Buzanca! Ciao Lando! Ciao! Come stai? No, no! Ehi! Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, Raffaella, guardami, Raffaella. Aspetta, che buona, aspetta. Ecco, così dolce, va dolce. Aspetta che si sleggo le mani. Non mi ha la violenza e mi fa poco. Sleggo le mani a Raffaella, guardami, Raffaella. Io tocco le tue mani e si slegano. Eh, ma è rimasta questa attaccata. No, basta! Basta! Non fare i giochi. Basta, basta! Aspetta, aspetta, voglio fare un esperimento. Ehi, posso... No, no, stai tranquillo, stai tranquillo. Mi do una sensazione escrosinare, guardi. Io tocco le gambe e diventa rigida. Guardami però, guardami, per piacere, guardami. Stai tranquillo, sarai sempre cosciente come Raffaella. Ma non fa il teatro, non puoi stare con la gamba torre. Deve cantare, ballare. Vittorio, dammi una parte! Stai tranquillo, non ci ha provato. Contento, ci ha provato. Dopo ci proviamo, eh. Dopo ci proviamo. Senti, Giucas, lui deve camminare adesso. Come fa a camminare con la gamba torre? E adesso cosa succede? Vieni avanti. No, no, dai, vai. Dai, dai, sciogli. Dai, dai, dai. Ma non è possibile! Dai, 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 dai. Ma io sei incredibile! Giucas! Non va male, non va male, hai visto? Aspetta, perché... Ma dai! Ma no, sciogli, mi sta giù. No, lascio tra il sole, sciogli, siedi e poi... Leo Cullotta, vieni qua, vieni qua. Ciao, Leo Cullotta! Fa il giro dell'arco! Cosa lo vuoi baciare? Non è bene, non è bene, non è bene, non è bene. Che cosa ne vuole fare? Non, non, tranquillo, tranquillo. Raffaella, vanno! Tranquillo, 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 devi stare tranquillo. Ti rilassi, ti rilassi, ti rilassi. No, no, guarda, guarda, scusami, eh. Deve stare bene, voi, pu... Io... Stai tranquillo. Hai fiducia in me? Ma non è che mi aveva parlato? No, 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 non ti faccio fare molte figure. Rilassati, è piacere. Rilassati. Non c'è mistero. Rilassati, è piacere, rilassati ancora. Io conto da uno fino a tre, numero tre, ti rilassi completamente. Uno. Due. Rilassati, abbandoni tranquillamente, abbandonati, 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 abbandonati. No, scusami! Tre, abbandonati, no, no, no. Abbandonati tranquillamente. Aspetta. E dormi tranquillamente. Ah, scusami. Ma hai rovinato tutti gli ospiti del Sefoss e le ha rotte tutte. Lascia stare Vittorio. Non è possibile. Guarda che Vittorio... Almeno uno sa che rimane. Ma hai ragione, uno sa che rimane. No, dai, me lo vedi, 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 me lo vedi. Vieni qua. Cadella, non mi puoi lasciare bullotto così, mi vedi sempre nella testa. Fermati tu con queste mani che fai male a tutti. Ma io, Alexandre, non c'è un altro mago che supera il mago. Mettimelo dritto. Radrizza. Radrizza Leo. Gli fa male alla testa, alla vena gonfia. Poi se sta sull'altra gamba mia, mettilo un po' più là. Leo. Leo. Tararara, 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 la sveglia. Tararara, 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 tararara. Io ti lascio così se ti faccio così, stai tranquillo. Ti prego, mi fa fare la figura del cretino. No, 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 vai. Rilassati completamente, io tocco la tua gamba. Ah! Sto bene. Dai, Leo, mio caro amico, non può stare così. Aspetta, la testa. La testa. No, no, questo mi è spento, vero. Ti piace questa testa, Vittorio? Abbiamo scherzato un attimino. Sì, ma adesso lo svegliamo. Adesso lo svegliamo, perché veramente... Sì. Rilassati, no, no, attenzione, attenzione. Scusa, a te chi ti ha invitato qua ancora? Sergio. Eh, lo sapevo io. Non lo posso dire. E mi fa sempre disperti. Dopo... Ascoltami attentamente, io conterò da uno fino a tre. C'ha le mani fredde, sbrigati che c'è il sangue che va nella testa. No, 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 rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Dopo sarà il primo di energia, sentirà la prima di energia dopo. Vedrai, sarà tranquillo. Cosa passa? Ascoltami, io conterò da uno fino a tre. O vado via e poi torno? No! No, ma io do false fosse, non può dormire. Uno. E la prima cosa che farai è aprire gli occhi e salterai in aria perché la poltrona ascolta. Come salta in aria? Sentirai caldo nella poltrona. Due. E starai bene, ti sentirai in forma. Ti sentirai in forma. In forma. Scusa, è freddo. Sì, lo so, stai tranquillo. E la prima cosa che farai è saltare in aria perché la sentirai scottare. Tre. Oddio, mamma. Casella. Benvenuto. È stato un piacere. Io torno, torno. Prendi l'applauso del pubblico. Io torno, io torno. Tu tornerai? Aspetta. Grazie. Grazie. Grazie.